In studio, Viviana Sammito. Faccio sentire la propria voce per liberare questi ragazzi. Ce ne parla Valentina Frasca. Eccola, una foto che vale più di mille parole. Ornella Matraxia, la mamma di Filippo Mosca, il 29enne di Caltanissetta condannato in Romania per traffico internazionale di droga, e rinchiuso nel carcere di Porta Alba a Costanza, aveva parlato di detenzione in condizioni disumane, ma è da questa foto della cella che ora si evince tutto l'orrore. Al suo grido si aggiunge adesso quello dei familiari di 12 inglesi, 11 ragazzi e una ragazza, rinchiusi dall'aprile 2023 nella stessa cella in cui per mesi è rimasto Filippo. Una cella di 20 metri per 30, in mezzo a topi, scarafaggi, muffa, escrementi, un WC alla turca per tutti, la possibilità di fare la doccia solo una volta a settimana. In 30, dentro questa piccola stanza sporca, H24, senza neanche la possibilità di godere dell'ora d'aria. Anche i 12 ragazzi inglesi, come Filippo, si trovavano in Romania per partecipare ad un festival musicale e come lui sono stati arrestati per spaccio e traffico internazionale di droga, senza alcuna prova, dicono i familiari. La loro denuncia è stata raccolta dai giornalisti del The Sun, che domani ne parleranno in un articolo. Anche loro, come Ornella, denunciano un sistema corrotto in cui gli arrestati sono costretti a dichiararsi colpevoli e vengono condannati a pene detentive estreme senza un processo equo, vittime di estorsioni e violenze giornaliere anche da parte di persone armate di coltello e il furto di oggetti personali. Fino ad oggi mi sono sentita il donkey shot della situazione che combatte contro i mulini a vento. D'altronde è molto facile pensare che siano le parole di una mamma disperata che difende il figlio con una mente e un punto di vista poco lucido o non rispondente alla verità, commenta mamma Ornella, che aggiunge che altri si stiano muovendo e finalmente denunciano le condizioni carcerarie disumane e l'ingiustizia scandalosa che si consuma dentro le aule dei tribunali della Romania mi fa sentire meno sola in questa battaglia. Quando mi dicono che il nostro governo non può entrare nel merito del caso giudiziario io pongo l'accento sul fatto che a non rispettare le leggi nazionali ed europee è proprio il sistema giuridico romeno. Lo hanno fatto con Filippo ma purtroppo lo fanno di continuo e l'Italia, conclude, deve e può intervenire perché ciò non avvenga a danno dei propri cittadini. Centinaia le persone che ieri hanno sfilato in corteo per il ricordo delle tre vittime di Altavilla Milicia per omaggiare è Antonella Salamone e i figli Kevin ed Emanuele che sono stati barbaramente uccisi la scorsa settimana. Ad Altavilla vediamo. Tante luci, una comunità è uno slogan ma anche il sentimento che ha stretto attorno al dolore centinaia di persone per la strage di Altavilla Milicia nel Palermiteno in un corteo partito da Piazza Belvedere. Uomini, donne e bambini hanno percorso le strade del paese in silenzio in un clima di riflessione e preghiera per l'omicidio di Antonella Salamone e dei due figli Kevin ed Emanuele di 16 e 5 anni uccisi la settimana scorsa nella loro viletta durante i riti satanici durati una settimana. Tra sé vizie e agonia per il triplice omicidio sono in carcere Giovanni Barreca padre e marito delle vittime, la figlia di 17 anni, una coppia Sabrina, Fine e Massimo Carandente. Tanti, anche in paese, hanno collaborato per cercare di ricostruire l'orrore che si è consumato tra le mura dell'abitazione, ha riferito ieri in conferenza stampa il procuratore di Termini Marese, Ambrogio Cartosio. C'era anche il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, ieri sera d'Altavilla Milici alla fiaccolata. La 41enne, Antonella Salamone, torturata, uccisa e sepolta in giardino, era originaria di Aragona, un paesino dell'Agrigentino. L'amministrazione comunale condanna fortemente questi effrati gesti, fogli incomprensibili. Da padre non riesco a capire come si possa arrivare a uccidere i propri figli. Ha ribadito ancora una volta il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino. Ed è da poco iniziata anche l'autopsia sul corpo delle tre vittime al Policlinico di Palermo. Le operazioni per i tali sono iniziate da poco sui corpi di Antonella Salamone, dei figli Kevin ed Emanuele. Lo ricordiamo, come detto anche appunto nel servizio, sono quattro gli indagati. C'è anche la figlia, 17enne tra gli indagati. Anche il GIP del Tribunale per i minorenni ha convalidato l'arresto. Il Comune di Palermo ha approvato il nuovo regolamento sulla Movida. Allora sentiamo meglio nei dettagli di cosa si tratta in questo servizio. All'alba di oggi il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato il regolamento sulla Movida. L'ok è arrivato al termine di una giornata di consultazioni e rivi per definire un testo che era stato proposto all'Aula dall'assessore alle attività produttive Giuliano Forzinetti. Uno degli obiettivi del regolamento è quello di garantire una maggiore sicurezza nelle strade e nei locali aperti durante le ore della Movida, locali spesso teatro di violenze e risse. Per questo motivo sono stati previsti i ticket d'ingresso nominativi per le discoteche e limitati gli orari di attività per le slot machine. Per i locali notturni gli orari si differiscono in relazione alla loro collocazione nel territorio comunale, centro o località balneari. L'aumento dei livelli di sicurezza era stato sottolineato e garantito anche ieri nel corso del Comitato Ordine e Sicurezza convocato dal prefetto di Palermo alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che ha garantito lo stanziamento di risorse da parte del Ministero dell'Interno e il rafforzamento degli organici delle forze dell'Ordine. Operazione alto impatto, controlli sul territorio a Siracusa. Sono stati perquisiti diversi appartamenti rinvenuti, stupefacenti e anche esplosivi. I dettagli nel servizio. Criminalità diffusa contrasta allo spazio di sostanze stupefacenti e detenzioni di armi nel mirino delle forze dell'Ordine, nel piano straordinario predisposto dal Comitato Ordine e Sicurezza presieduto dal prefetto di Siracusa Raffaela Moscarella nell'ambito dell'operazione alto impatto. Carabinieri, guardie di finanze e agenti della Polizia di Stato hanno puntato i riflettori su una piazza di spaccio diffusa, dislocata su più appartamenti ricadenti sul largo Luciano Russo protetta da un sofisticato sistema di videosorveglianza utilizzato dai pusher per tenere sotto osservazione l'intera area interessata dallo spaccio attraverso i numerose telecamere poste sul tetto e sotto i balconi di alcune abitazioni e addirittura un cane posto sulla terrazza per contrastare l'operato delle forze dell'Ordine. Perquisiti diversi appartamenti, rinvenendo complessivamente 426 grammi di cocaina e crack, 80 di hashish, 200 di marijuana, in parte già suddiviso in dosi preconfezionate, materiale per il confezionamento e la pesatura, oltre alla somma di 535 euro, ritenuta provento di spaccio. Rinvenuti 11 candelotti di esplosivo che sono stati presi in carico dagli artificieri della Polizia di Stato di Catania che hanno certificato la micidialità degli ordigni. Arrestati due coetane di 27 anni e un 44enne, tutti con precedenti di polizia associati al carcere Cavadonna di Siracusa. Tutto il materiale è stato sequestrato e lo stupefacente sarà sottoposto ad accertamenti di laboratorio. Il cane è stato affidato ai veterinari dell'ASP di Siracusa perché è apparso in evidente stato di denutrizione. Intensificati i controlli del territorio da parte della Polizia di Stato nei territori di Modica, Vittoria Comiso e Ispica insieme con le pattuglie del reparto prevenzione crimine e unità cinofile. Controllati i veicoli e sottoposte a controllo anche persone con le misure di prevenzione di sicurezza. Oltre ai controlli sugli esercizi pubblici che hanno portato a comportamenti illeciti dai controlli, 13 stranieri sono risultati irregolari e sono stati espulsi. 68 le persone denunciate, 15 quelle arrestate in flagranza di reato. In Sicilia bus gratis per le forze dell'ordine. Il provvedimento è valido dal 19 febbraio. Anche quest'anno le forze dell'ordine potranno viaggiare gratuitamente in Sicilia per motivi di servizio sui mezzi di trasporto pubblico, locale, su gomma urbano ed extraurbano. Lo stabilisce un decreto dell'assessorato regionale alle infrastrutture e alle mobilità. Il provvedimento, valido dal 19 febbraio, è rivolto a polizie di Stato, arma dei carabinieri, guardie di finanza, vigi del fuoco, corpo forestale, polizia penitenziaria, polizia locale, municipale o provinciale, corpo della Capitaneria di Porto, ovvero guardia costiera, forze armate dello Stato, personale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli e al personale di prefettura incaricato allo svolgimento di attività di polizia o di ordine pubblico. Con questo provvedimento, ha detto il presidente Renato Schifani, il mio governo vuole dimostrare vicinanza e sostegno a tutte le forze dell'ordine impegnato ogni giorno al presidio della legalità e dell'incolumità dei siciliani, uomini e donne che con grande spirito di sacrificio e coraggio svolgono un ruolo essenziale per la salvaguardia della convivenza civile e della pubblica sicurezza. Questa misura, aggiunge il governatore, si traduce in un vantaggio per tutti poiché la presenza sui mezzi di questo personale è una garanzia contro eventuali situazioni di rischio. Un segnale importante, ha detto invece l'assessore Aricò, che rafforza la collaborazione della regione con tutte le categorie delle forze dell'ordine che ogni giorno lavorano in Sicilia per la sicurezza dei cittadini e allo stesso tempo consolida una collaborazione per i viaggiatori che si sentiranno più sicuri nel sapere che all'interno dei nostri mezzi di trasporto ci sono soggetti in grado di prevenire eventuali pericoli. In Sicilia continua la protesta dell'agricoltore e dell'allevatoria. A Marsala hanno sfilato 150 trattori, mentre martedì a Roma è previsto un incontro del segretario Consal con il ministro alle politiche agricole e alla solidità alimentare Lollobrigida. Non si fermano gli agricoltori e gli allevatori siciliani che ormai da settimane sono in protesta come nel resto d'Italia per dire no alle politiche agricole europee. Oltre 150 trattori che sono arrivati dai vari centri della provincia di Trapani sfilando per le vie principali di Marsala ad organizzare la protesta proclamando lo stato di agitazione degli agricoltori della provincia per sollecitare interventi concreti ai governi nazionali e regionali sono le segreterie provinciali di Confsal, Copagri, Federagri, FNA, Confagricolture e Liberi Agricoltori. A loro si sono uniti i contadini dell'associazione, i guardiani del territorio di Marsala. In campo dunque per sollecitare ai governi nazionali e regionali quattro provvedimenti urgenti da cui dipende la sopravvivenza di gran parte delle aziende agricole, ristoro immediato per i danni subiti nelle precedenti e attuali campagne agrarie come alluvioni e prolungati periodi di siccità e calura la liquidazione immediata di tutte le misure agroambientali pagamento degli aiuti temporanei per il caro energia attivazione dei crediti d'imposta per l'acquisto di tutti i mezzi di produzione intanto martedì a Roma il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigide incontrerà Cipriano Sciacca, segretario regionale della Confsal è componente della segreteria nazionale di Feder Agri questo, dice Sciacca, è solo l'inizio di un'avvertenza che potrebbe stendersi a tempo indeterminato e coinvolgere le altre province siciliane e in Sicilia è a rischio il 40% di territorio rischio di desertificazione noi ne abbiamo parlato con la responsabile dell'osservatorio siccità sentiamo Sara Donzuso temperatura anomale più alta della media stagionale anticiclone in pieno inverno e carenza di piogge quello che stiamo vivendo soprattutto in Sicilia è un clima anomalo e questo fa preoccupare sempre di più gli studiosi che temono i cambiamenti climatici tra gli scenari più preoccupanti quello legato alla desertificazione se consideriamo che in Sicilia il 40% del territorio è ad elevata criticità considerando anche che gli invasi siciliani hanno sempre meno acqua a studiare quanto sta accadendo anche il CNR come ci spiega la ricercatrice Ramona Magno responsabile dell'osservatorio siccità la Sicilia attualmente è la regione del sud più colpita dalla siccità quindi non solo piogge scarse spesso sono accompagnate da ondate di calore estivo ma anche temperature fuori norma in periodi più freddi e intervallati anche spesso da precipitazioni molto intense quindi alluvioni e questo sta aumentando anche perché anche la temperatura del mare sta aumentando a livello italiano già il 28% del territorio soprattutto al sud è indicato con presenza di fenomeni di degrado del suolo e la Sicilia appunto fra le regioni del sud è quella sicuramente più colpita addirittura viene indicato come il 40% ad elevata criticità di fenomeno di desertificazione nei prossimi decenni nel Mediterraneo sicuramente ci sarà un aumento ulteriore della temperatura secondo lei si può intervenire in qualche modo? abbiamo sicuramente il contenimento del consumo del suolo nel report del 2022 dell'ISPRA la Sicilia è risultata la sesta regione con il più alto consumo di suolo e fra le province abbiamo Agrigento, Palermo, Trapani, Enna e Siracusa cercare di ripristinare i terreni degradati gestire meglio la risorsa idrica e anche investire in un'agricoltura più resiliente ed infine anche utilizzare le cosiddette nature based solution ovvero soluzioni basate sulla natura che consistono in una riforestazione o conservazione della foresta valorizzazione degli spazi verdi urbani voltiamo pagina parliamo adesso del caso della ventenne di origini tunisine che è nata a Catania e sulla quale pende un decreto di espatro è tornata dalla madre del capologo Etneo con un gommone sbarcato a Pantelleria lo scorso agosto adesso però se ne parlerà nel corso di un'udienza che è prevista il 19 febbraio il futuro di una ragazza tunisina di 20 anni nata a Catania dipende da una sentenza rimane sospeso tra ricorsi e tra file giudiziarie il 19 febbraio si trà l'udienza per il ricorso contro il provvedimento del giudice di pace che si è dichiarato incompetente per territorio a decidere sul decreto di espatro emesso dal questore di Trapani a presiedere l'udienza della prima sezione civile del tribunale di Catania sarà il giudice Rosario Maria Cupri la giovane era stata sottratta da piccola alla madre e dal padre che l'ha riportata in Tunisia lei è tornata in Sicilia con un barcone approdato a Pantelleria il 25 agosto dello scorso anno per raggiungere la madre che era rimasta nel capoluogo Etneo la giovane Sara ha spiegato il penalista è stata costretta a raggiungere Catania la mamma e i fratellini con un gommone dopo un viaggio di 14 ore per colpa della burocrazia del nostro paese adesso è finalmente tornata a casa propria né politica né diritto possono permettersi di dire che Sara non sia in casa propria nelle note in maniera preliminare il penalista Giuseppe Lipera ha infatti contestato un passaggio riferito alla cittadinanza riportato nella memoria presentata dall'avvocatura dello Stato per conto della questura di Trapani in cui si afferma nell'atto depositato ebbene però subito a fugare un dubbio in relazione alle farneticante recuperazioni dal valore più politico che giuridico sulla cittadinanza della ragazza per illegale la frase assolutamente offensiva e ingiuriosa oltre che errata e inappropriata per un atto difensivo del tutto superflua e ne chiede l'immediata cancellazione dagli atti di causa riservandosi di ricorrere alle autorità competenti a riguardo questa ragazza è nata a Catania ha ancora dichiarato l'avvocato Lipera ha tentato innumerevoli volte di ricongiungersi all'amata madre ma le macchinazioni burocratiche del nostro ordinamento gliel'hanno sempre impedito l'avvocato Giuseppe Lipera lo ha scritto nelle note depositate dal Tribunale Civile di Catania la fattispecie concreta in cui si trova la giovanissima Sara non è disciplinata da alcuna norma perciò va risolta col buon senso secondo il penalista Giuseppe Lipera Adesso vi raccontiamo la storia di Ornella Orzì che è una giovane ricercatrice siciliana che ha scelto di studiare e spendersi per la lotta contro il cancro e lo fa anche per una esperienza personale la sentiamo nel servizio A 28 anni una grande responsabilità porta in alto il nome della Sicilia Non lo dica mi sento piccola onestamente non voglio sentirmi questa grande responsabilità mi sento la stessa bambina che 21 anni fa ha perso la nonna per cancro e ha detto ai suoi genitori non può essere che non c'è una cura per questa malattia io la voglio trovare da grande quindi voglio fare questo Lei è la ricercatrice palermitana Ornella Orzì laurea magistrale in biotecnologie mediche e medicina molecolare all'Università di Palermo con l'ode e menzione della tesi di laurea ed è lei la vincitrice della borsa post dottorato Marie Curie per portare avanti un progetto di ricerca sul cancro a Vienna Le borse Marie Curie sono un'opportunità importante offerte ai migliori talenti con le quali la Commissione europea mira a sostenere la carriera dei ricercatori più promettenti Il progetto della Orzì si incentra sul sarcoma Fondamentalmente il progetto è stato scritto sui sarcomi che sono dei tumori che originano dall'osso e dai tessuti molli tumori per i quali negli ultimi decenni non si è visto un avanzamento terapeutico quindi con questo progetto io miro a dare alla comunità scientifica dei modelli che siano il più possibili fedeli a quello che è il tumore per poter andare a identificare nuovi target terapeutici e quindi nuove terapie per i pazienti e quindi poter dare loro migliori prospettive di vita Umiltà, impegno e continua voglia di crescere consapevolezze maturate già da bambina quando Ornella Orzì ha scelto di diventare ricercatrice contro il tumore una bambina di 7 anni che dice mamma, papà io da grande voglio trovare la cura per il cancro penso che le abbia spiazzati un po' però è il motivo per cui ho intrapreso questa carriera per me la ricerca oncologica non è un lavoro è la mia passione complimenti in bocca al lupo a questa giovane ricercatrice palermitana andiamo a Catania perché nascerà una nuova pista ciclabile che consentirà di arrivare direttamente alla playa piacerà questa idea ai cittadini lo scopriamo in questo servizio arrivare a mare in bicicletta tra qualche mese a Catania sarà possibile grazie alla creazione di una pista ciclabile che interesserà via Cristoforo Colombo e via Domenico Tempio arterie che portano direttamente alla playa dal centro città lunedì inizieranno i lavori del nuovo manto stradale per un totale di 4 km dopo la riqualificazione dei marciapiedi appena effettuata e la sistemazione degli impianti di drenaggio delle acque piovane con la pulitura delle caditoie prevista anche una nuova illuminazione con luce a led ma la vera novità è la pista ciclabile protetta e leggermente rialzata e che si connetterà con un buepasso sulla rotatoria al faro Biscari alla pista ciclabile già esistente su Viale Kennedy per la realizzazione e l'intervento di rifacimento del manto stradale della pista ciclabile è prevista una durata di circa due mesi verranno installate anche bande sonore rallentatori ottici per migliorare la sicurezza stradale garantita la riorganizzazione degli spazi pedonali con la messa in opera di percorsi guidati per non vedenti e ipovedenti e sostituite le barriere di sicurezza esistenti in larga parte di Velte questo progetto piace alla gente? questa strada è diventata una strada turistica a livello internazionale qua passano turisti tutto l'anno quindi serve rimettere a nuovo questa strada con la pista? a nuovo di valorizzarla perché è stata per troppo tempo abbandonata quindi è utile anche per voi commercianti? per tutti che non è per niente utile la pista ciclabile che ci vuole però ripeto le stesse parole prima ci vuole una cultura per quei signori che viaggiano in bicicletta penso che ci hanno ci hanno perduto solo tempo per farlo perché è una cosa che risveglia tutta Catania i soldi investiti bene la città acquista una cosa in più però ripeto dobbiamo pensare anche all'urbanistica interna perché c'è un degrado totale ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria siamo da voi tra poco ancora ben trovati nel studio per la seconda parte di mtg corso via le martiri della libertà Catania le aree sono abbandonate e totalmente degradate arrivano a diffida ai proprietari se deve intervenire dicono i cittadini che ci sia bisogno di un intervento nella zona di corso martiri della libertà a Catania è sotto gli occhi di tutti le piazzette che erano state recuperate si presentano adesso sporche con uno spazzatura sparsa e a volte popolate da senza tetto che qui passano la notte una situazione che ormai si protrae da anni e che si spera possa quanto prima essere recuperata una speranza potrebbe arrivare dalla diffida inviata dal sindaco Enrico Trantino ai proprietari delle aree di corso martiri della libertà diffida che impone che entro dieci giorni sia presentato il piano industriale per gli interventi da realizzare ma anche a procedere con le necessarie operazioni di bonifica per eliminare il degrado esistente e per riattivare e riportare le condizioni delle aree interessate a un livello consono sia di igiene che di sicurezza Cosa ne pensano le condizioni di quest'area? Cosa devo pensare? Scusi ogni tanto è pulita ma non sempre C'è un degrado totale? No, totale no ogni tanto la fanno però ci dormono lo sai come è no? Nelle grandi anche metropoli ci sono anche posti belli e anche posti non belli quindi io penso che ogni parte del mondo il degrado c'è sempre stato una schiettezza Qualcuno ci dice ogni tanto la puliscono? Sì qualcuno si in sostanza di stare attenti e dareci una pulita non è ciò stesso una cosa perché c'è uno schifo totale bloccato che è reso l'importante arteria i lavori erano stati consegnati con l'inaugurazione ufficiale il 5 giugno la presenza anche dell'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò è nata una nuova associazione di promozione sociale il molo a Donna Lucata per dare rilancio alla borgata ma soprattutto per dare il via dei lavori per rendere più efficace ed efficiente il porticciolo di Donna Lucata Sono cittadini pescatori di portisti uomini e donne che amano Donna Lucata sono legati e immaginano un futuro per la borgata che sappia garantire sviluppo economico turistico e sociale da questo sentimento è nata l'associazione di promozione sociale il molo che è stata presentata ieri sera nel corso di un convegno in cui erano presenti i soci fondatori che si sono rivolti a tutta la comunità è stata illustrata la piattaforma per rilanciare la borgata che non può continuare a essere nota solo per l'effetto Montalbano tra i punti strategici il decoro la manutenzione del molo con il riutilizzo della draga e una conferenza di servizio con tutti gli enti competenti per presentare un progetto che possa rendere efficiente il porticciolo dei donnalucatesi perché non prenderci cura di quel posto che merita merita veramente la voglia di avere questo posto più fruibile praticamente per chi abbiamo le barche per chi ha le barche molta gente non può venire a Donnalucata perché non manca manca proprio l'accesso manca dove ormeggiare dove sostare manca tutto praticamente c'è bisogno di gente che comunque collabora più che altro quindi le iscrizioni sono aperte il sindaco Mario Marino si è messo a disposizione dell'associazione così come il parlamentare regionale Giorgio Assenza e l'onorevole Orazio Ragusa che ha seguito l'iter quando era deputato l'obiettivo è intanto sbloccare la draga ma non è la soluzione definitiva per risolvere le criticità del molo c'è una perizia in corso di 300 mila euro originariamente 300 mila già questa ai tempi dell'onorevole Ragusa c'era un impegno aveva fatto fare un impegno per 300 mila euro sono già stati in parte eseguiti dei sondaggi sul sito hanno fatto delle analisi particolari che già ci sono i risultati e c'è il progetto che in accordo con il demanio marittimo sta andando avanti lo stanno trasmettendo all'assessorato infrastrutture e l'importo che originariamente era 300 mila euro ora è 246 mila euro il progetto sta andando avanti e si sta aspettando il completamento dell'Ital Il convegno è stato moderato dalla giornalista Viviana Sammito ed è stato incentrato sulla storia di una frazione che ha vissuto gli anni d'oro della pesca Le cose sono cambiate ormai ad onologare i pescatori sono finiti gli ultimi forse 40 anni fa eravamo noi gli ultimi ma poi dopo 40 anni non ci siamo stati più che pescatori perché non essendoci dei punti di approdo la nuova generazione non non ha più voluto sentire perché ormai la vita è diversa come la facevamo noi loro non la fanno Torna come ogni weekend Sindaco Oggi ospite la sindaca di Comiso Maria Rita Schemmeri per parlare del rilancio della città ma soprattutto del futuro dell'aeroporto di Comiso domani appuntamento con una nuova puntata di Sindaco Oggi ospite il primo cittadino di Ragusa Peppe Cassi appuntamento alle 12.40 alle 15 e alle 20 con Sindaco Oggi grazie per averci seguiti fin qui a MTG e chiudiamo questa edizione augurandovi buon fine settimana Grazie a tutti